Trasformare la città in una palestra a cielo aperto per consentire a tutti di fare sport. Anche Pavia è tra le città che parteciperanno a Sport City Day, iniziativa lanciata dalla Fondazione Sport City. L'idea alla base è quella di promuovere l'attività fisica come strumento per il benessere dei cittadini. La Fondazione Sport City è una fondazione che è nata lo scorso anno su volere dell'ex segretario della Federazione Italiana di Tietro di Gera, Fabio Pagliara. Diventandone Presidente lui ha scelto di regalare e di offrire un'opportunità a tutte le città sportivizzando le città con le varie discipline che possono essere realizzate in ogni singolo ambiente. Si è partiti con l'edizione del 2021 un po' ibrida proprio a causa delle restrizioni del Covid con 18 città in tutta Italia. Pavia quest'anno saranno 36 le città che hanno aderito al progetto Sport City Day e Pavia ovviamente fa parte di queste 36 città che hanno accettato. Lo Sport City Day si terrà in 36 città italiane domenica 18 settembre. A Pavia l'iniziativa si svolgerà al Parco della Vernavola dalle 10 alle 15 e vedrà la partecipazione di diverse associazioni sportive cittadine. Alla fine della giornata poi alcuni volontari ripuliranno l'area dai rifiuti. Inizieremo con delle attività molto inusuali rispetto al consueto perché si andrà dalla camminata alla bicicletta, alle danze medio orientali, allo yoga. Si farà poi un'attività di autodifesa femminile ed infine anche un'attività importantissima che rientra un po' nelle caratteristiche, nella mission di Sport City Day, vale a dire il plugging, ovvero la raccolta dei rifiuti nel parco. Sto parlando di parco, si parlerà di parco della Vernavola perché questa sarà la location dove il Sport City Day Pavia verrà ospitata. Quindi 18 settembre dalle 10 alle 15, la manifestazione è chiaramente aperta al pubblico, c'è una pagina Facebook che è Sport City Day Pavia sulla quale vi invito ad accedere, cliccare e vedere tutti gli aggiornamenti che nei prossimi giorni e che stiamo già pubblicando in questi giorni. Questo è sicuramente un evento che concretizza quello che abbiamo sempre seguito. In più, a parte questo evento importantissimo, lo Sport City Day del 18 settembre, noi anche nei mesi scorsi abbiamo cercato di valorizzare il territorio attraverso lo sport, in particolare anche la zona della Vernavola, il parco della Vernavola, dove si svolgerà questo evento molto importante il 18. Quindi non abbiamo fatto altro che accogliere di buon grado la richiesta che Pavia fosse inserita tra le tante città italiane che hanno già ospitato questo evento, perché questa è la seconda edizione dello Sport City Day, quindi siamo particolarmente onorati di essere entrati a far parte di un circolo esclusivo di città che puntano sulla sportivizzazione. La sportivizzazione è una cosa molto importante ed è una delle finalità del programma di mandato del Sindaco.